Beh, il fatto, i ritardi con i sistemi di protezione sociale a livello europeo, senz'altro, l'Italia era l'unico paese assieme alla Grecia che non aveva un reddito minimo e quindi stiamo, adesso ce l'abbiamo in qualche modo, sottofinanziato ma c'è. Il reddito di cittadinanza di cui si parte si è parlato di questa, non cadere, questo costerebbe 35-38 miliardi. Il disegno di legge presentato dal Movimento delle 5 Stelle che è in Parlamento, no, costava, avevamo valutato allora in 29 miliardi, rivalutato adesso da 35-38. Arrivederci.